L'esercito turco ha bombardato posizioni dell'ISIL nel nord della Siria, causando almeno 14 vittime. L'attacco è avvenuto non lontano da Aleppo, la seconda città del paese. Una distinta operazione, congiunta con i kurdi dell'IPG e sostenuta da aerei USA nella zona di Mamji, ha portato alla riconquista di 16 villaggi. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani, i bombardamenti statunitensi avrebbero causato almeno 15 morti in 24 ore. Grazie.